Per circa 15 anni aveva dovuto far fronte alle continue lamentele dei cittadini che vivono nelle case popolari, in alcuni casi anche rabbiose, sino a non reggere più, scoppiando per il troppo stress. Adesso una geometra retina di 52 anni ha vinto la causa di lavoro con l'INAIL, condannata a versarle la rendita. La Corte d'Appello di Firenze, la sezione lavoro e previdenza, ha infatti riconosciuto alla donna una patologia professionale. Si tratta della sindrome di burnout, letteralmente esaurito, scoppiato, bruciato. La geometra dell'agenzia Rezzo Casa seguiva infatti 1.500 alloggi tra il Valdarno e il Casentino, con i relativi problemi di piccole e grande manutenzione. Dal 1999 al 2013 aveva dovuto fare conti con continue lamentele richieste, solleciti e sfoghi che non riusciva più a fronteggiare, dai problemi di muffa sulle pareti a quelli relativi al riscaldamento, dalle fognature alle liti condominali. Negli anni poi non erano mancati nemmeno atteggiamenti aggressivi, in alcuni casi difficilmente gestibili. La donna così era precipitata in una situazione di esaurimento cronico. Nel 2012, a seguito di alcuni certificati medici, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale, che l'INAIL aveva però rigettato. I legali della donna così avevano presentato ricorso alla sezione del lavoro del Tribunale di Arezzo, anche in questo caso respinto. Adesso i giudici d'appello, alla luce di una consulenza tecnica, hanno dato ragione alla 52N. L'INAIL è stata così condannata a corrispondere alla rendita di legge per l'inabilità permanente pari al 18% di danno biologico e il trattamento per l'inabilità temporanea per il periodo luglio 2012 e novembre 2013 con gli interessi. La donna, infatti poi licenziata, ha continuato a soffrire di disturbi della patologia psichica e non ha più ripreso l'attività professionale.